scusate la mascherina ma oggi è dopo allora una ragazza polacca di nome giulia di 21 anni dice di essere magdalene mccain e che vuol fare il test del dna in realtà magdalene avrebbe 19 anni e poco importa se lei ne ha 21 comunque lei dice che i documenti sono falsificati eccetera 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 nessuno la considera chissà perché vabbè vediamo anche questo sviluppo come andrà avanti ciao